Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi andiamo a parlare di game plan. Che cos'è il game plan? Ve lo vado a illustrare a breve. È una cosa che mi avete richiesto in tanti, perché avete fatto sicuramente caso, che da qualche anno, insomma, è possibile andare a switchare le tattiche e le proprie formazioni direttamente dal tastierino, andando a utilizzare le frecce e andando appunto a selezionare ultradifensivo, bla 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 bla. Premessa, grande premessa, è che appunto andare a selezionare ultradifensivo, difensivo, offensivo, eccetera, non significa che andate a selezionare un asset di gioco di questo tipo, assolutamente no, perché voi su quelle determinate impostazioni avete il vostro game plan. Quindi passiamo rapidamente in gioco e andiamo a analizzare che cos'è un game plan. Quindi andando subito nelle tattiche personalizzate, vedete quello che è il mio. Ossia, su ognuna di queste impostazioni io ho un modulo differente, ok? Il game plan non è altro che il modo con il quale io vado ad affrontare la partita, ok? Quindi è la mia idea di gioco, quello che devo fare, quando lo devo fare, in base a quello che succede durante un match, ok? Quindi molto chiaro. Ed è una cosa che diciamo uno arriva a costruirsi con un po' di esperienza, no? Anche basandolo su quello che è il proprio stile di gioco e soprattutto cercando di rispondere a quelle che sono i diversi scenari che accadono durante una partita. Quindi, per esempio, nel mio caso, io appena inizio il match setto la tattica su difensivo. Ma no perché io voglio andare ad adottare effettivamente uno stile di gioco difensivo. Anzi, semplicemente perché qui su difensivo si trova la tattica che io ho impostato, ossia il 4-4-2, quello che, insomma, è uscito anche sul canale dopo la patch, che è il mio metodo standard per approcciare ogni partita. Un'altra cosa che io reputo sbagliata è quella di dover modellare i propri stili di gioco in base all'avversario. Non è che se io becco il casual gamer metto tutti davanti e se invece becco il pro player gioco con tutti dietro perché sia nel primo caso che nel secondo sono degli effetti negativi. Nel primo è che se magari quel casual player lì un po' in difficoltà vi mette voi state tutti avanti, prendete gol, magari non riuscite a segnare e perdete la partita. Stessa cosa contro un pro player. Magari se vi buttate tutti dietro e andate a giocare con un po' di timore reverenziale il gol prima o poi finirete per prenderlo e magari per pensare a difendere non avete pensato ad attaccare e quindi avete lasciato qualcosa di intentato. Non sapete mai se quella partita l'avreste in realtà potuta vincere. Quindi una cosa che io cerco sempre di fare è quella di imporre il mio stile di gioco indipendentemente da chiunque mi trovo davanti. Cioè se io becco il pro player gioco nel mio modo, se becco il casual gamer gioco nel mio modo. Se poi effettivamente questa cosa non dovesse funzionare allora scatta il game plan, scatta il piano B che alle volte si tramuta anche in piano C e piano D e attenzione quindi bisogna sempre sapere come rispondere ma ancora prima di iniziare la partita no. Ossia se voi vedete l'avversario, pip mentale, non fatemi. L'idea di base deve essere sempre quella di imporre con forza il proprio stile di gioco. Quindi questo è il primo consiglio aureo che io vi posso dare. Detto ciò è chiaro che in una partita si verificano, come vi ho detto, situazioni differenti. Quindi può essere che magari io sta partita la vinco comoda del tipo 2-3-0 quit, 4-0, 5-0, bla 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 quindi posso continuare a martellare col mio stile di gioco. Ci sono partite invece dove magari ho bisogno di andare ad affrontare un assetto un po' più difensivo perché magari sto vincendo contro un avversario bravo e allora voglio andarmi a chiudere. Cosa facciamo? Noi cerchiamo di andare a utilizzare ovviamente delle contromisure. Contromisure che non sono necessariamente cambiare un modulo. E attenzione perché magari se voi con quel modulo che avete vi sentite confident vi basta semplicemente magari andare a mettere delle impostazioni che possono essere, che so, rientra in difesa alla punta? Ve ne dico una, eccola qui. Che già vi dà un maggiore supporto. Quello che faccio io, nel mio caso personale, ma come ci sono tanti altri player che magari vanno a utilizzare moduli come difesa 5, eccetera, eccetera, validi ma io per quello che è la mia idea di gioco non mi ci trovo e piazzare il 4-4-2 che è un modulo che anche qui insomma tutti quanti conosciamo queste non sono ancora le tattiche aggiornate del video che è uscito domenica tuttavia piazzo questo modulo perché? Perché avere due mediani davanti alla difesa mi dà molta più solidità perché posso andare a impostare che i tre COC mi tornano in difesa e quindi praticamente mi si viene a creare tutto un muro centrale che va a difendere la mia porta e impedisce all'avversario di poter creare azioni pericolose e quindi questo è un modulo con il quale magari mi sento un po' più coperto e un po' più abbottonato e di conseguenza lo vado a switchare quando devo difendere praticamente Fort Knox, ok? Quindi questo. Oppure magari durante la partita invece c'è una fase di gioco dovete recuperare un gol di svantaggio, due gol di svantaggio però c'è ancora tempo. Allora qui il mio game plan che cosa fa? vi fa mettere il 4-4-2, questo qui che è un 4-4-2 impostato in maniera differente rispetto a quello che utilizzo normalmente l'idea di gioco è sempre quella e quindi mi permette da un lato di poter essere più offensivo e adesso vi faccio vedere il perché però comunque mi permette anche di potermi difendere come so quindi senza fare troppe scelte azzardate per evitare poi di ritrovarmi da quei due gol sotto, quattro gol sotto e farmi scappare la partita. Quindi per esempio su questo 4-4-2 io non ho fatto nulla di trascendentale ho messo semplicemente avanza ai due mediani che di conseguenza si vanno ad associare alla manovra offensiva con maggiore efficacia si buttano molto molto dentro a creare superiorità numerica e metto ai terzini invece attacco equilibrato perché avere il supporto dei terzini in fase offensiva diventa una chiave ulteriore per scardinare la resistenza del nostro opponent quando invece il gioco si fa duro e c'è da tirare fuori gli attributi e vanno recuperati per dirvi 3 gol in 20 minuti boom 3-1-4-2 modulo del quale è uscito il canale con tutte le tattiche e la spiegazione che è proprio il modulo del o si vince o si muore praticamente modulo tutti in avanti con delle istruzioni tutti in avanti che mi deve far recuperare il match quindi diciamo che questo è come ho strutturato io il mio game plan io adesso non vi dico che dovete copiare A, il mio, B le mie tattiche e i miei moduli perché quante volte ve lo dico penso 800 come le tattiche come le cose eccetera eccetera sicuramente vi danno una mano a mettere le nostre eccetera eccetera perché magari sono collaudate ci sono dei tip dei trick che insomma accadono tuttavia è bene che voi troviate il vostro ossia se magari voi vi trovate meglio a difendere con una difesa 5 qua ci piazzate un modulo con una difesa 5 se il vostro modulo preferito il 4-2-3-1 il rombo il 4-2-3-3 qua ci mettete il vostro modulo preferito se qua per recuperare la partita vi piace più il 4-2-4 utilizzate il 4-2-4 quello che è fondamentale è avere un'idea di base ossia cercare di avere nel proprio repertorio almeno due moduli che per me si devono andare ad alternare a seconda che insomma si entra nel match o che si voglia difendere ma ovviamente non rinunciando anche ad attaccare perché spesso e volentieri la miglior difesa è l'attacco e poi un modulo anche questo masterato perché non è che basta mettere questo e fate gol in automatico perché altrimenti qua se non siete bravi il gol lo prendete quindi un modulo che vi permette di poter recuperare la partita quando ci sono tanti gol non si ha più nulla da perdere e magari ci riuscite a fare questa impresa epica quindi questo è quello cos'è quello che è un game plan è quello che è il suo funzionamento spero che l'abbiate capito spero che insomma cerchiate di andare a applicare questi piccoli suggerimenti ho avuto la necessità di portarvi questo video perché me l'avete richiesto veramente in tanti dicevate ma come mai difensivo offensivo qua e là sfatiamo anche questo tabù che insomma mettere la tattica su offensivo non significa andare tutti in attacco qua ci posso mettere anche il 5-3-1 3-2 extra difensivo insomma non è che il nome della tattica si traduce effettivamente nel risultato no siete voi che vi impostate le cose come vi pare quindi raga nulla per questo video anche per oggi è tutti vi ricordo di lasciare un bel like e un commento iscrizione al canale che stiamo crescendo a bomba e mi fa strapiacere tutte le info in descrizione per le live giornali sulla piattaforma vi vola e nulla ragazzi io vi saluto e vi auguro una buona giornata ciao ciao